E ritorniamo con i The Show per un giorno e quest'oggi proveremo a indispettire gli anziani. Scherzosamente Neschio, sempre? Questo sempre. The Show per un giorno. Scusate, oggi è la giornata contro la prevenzione delle malattie venerie. Dato che voi fate parte di una categoria fortemente a rischio, vi vorremmo regalare un preservativo. Il canale di Neschio vi regala un preservativo. Se lei... Perché come fate a sapere che io lo faccio? Quello non lo so, penso che ancora potete... E se passavate ieri c'era anche in più una pillola blu da darvi insieme. Allora, io vi devo cercare, io non sono ammogliato, sono venuto. Ok. Però c'è una malattia che ne agisce le patite C, le patite B e c'è la lucemia. Porca f***a. Ho capito. Lo volete che me lo tenga? Con qualche donna vado. Eh, per quello, dai. Almeno prevenite a loro, dai. La politica? Cosa ne pensate? No, perché stiamo facendo un discorso con il mio amico, no? Pensavo... Ma... Noi giovani non veniamo aiutati perché... Non si mette a me ne frega niente il mio amico. Eh no, ma aspettate qua, lo sai che non me ne frega? No, no, no. Però voi siete un peso per lo Stato perché voi vi ricavate la zio. Eh, boh? Eh, quindi, i soldi che vanno a voi potrebbero andare a noi. Eh, perché gliel'ha detto noi? Eh, ma lo ammira lo Stato, come ti fa? Eh, va lo Stato ti fa dare. Diciamo, dammi i soldi che lo vogliono a capare. Ma io... E così dicevi, guardate, metto i soldi di quello che passiamo a Corso Mazzini. Che ti dà uno? Eh, magari. Io invece penso una cosa. Se magari lei capisce a me, no? Allora, i suoi soldi... Ma no? Cosa ne pensi? Non lo penso. Niente. Dato che lei è un vecchio decrepito, no? Non ha paura di crepare. Ma che me ne frega. È meglio ciò che tu. Che me ne frega, e tu? No, io sì. Hai un vecchio problema. Eh? Io sì, ho paura tutti i giorni di morire. Ma quanto costa una dentiera scadente come la sua? Io veramente i scadenti non ce l'ho. Quindi, non c'è parola. Eh, ma... Faccia vedere, scusa. No, no, non ti preoccupare. Non c'è bisogno. No, ma io ho problemi con... Non ti, non ti, ogni parola. Ho problemi con i denti. Ma non c'è no, non c'è no dentiere, come te potrebbero spiegare. Mi sta facendo credere questo nei suoi dentiere? Non c'è, questi sono i miei dentiere. Ma sicuro? Ma non mi prendi in giro. Non mi prendi in giro, non faccia l'ognorri. Ma non faccia così. Mi immagino che sia difficile alla vostra età, più non far sesso. Come fa a sopportare una cosa del genere? Io non riuscirei. Che cosa? A non far sesso più con una donna. Io ne ho bisogno tutti i giorni. Giusto per avere una prospettiva futura. Lei come fa a non far più sesso con una donna? Come riesci a sopportare questa situazione? Io lo faccio sempre. Lo fa? Sì. Una volta all'anno forse, sì o no. Non si alza? Sì. A voi. Noi uomini siamo così, la diciamo la cosa, ma poi alla fine non è come proprio diciamo. Dimmi dove arriva il suo appunto. No, voglio sapere lei cosa prova a farlo poche volte, perché io non ho bisogno giornalmente, almeno una volta al giorno ne ho bisogno. Io fino a quando? Fino a... Poi ho due schemi. Ah, ho capito. No, io pure tutti i giorni faccio. Ho capito. Ma lei quanti anni ha, scusa se mi permetto? Ah, ho capito. Allora diciamo fino ai 60 anni si può, posso stare tranquillo, dai. Fino ai 55, 56, 57 si sta tranquillo. Ho capito. E poi si deve stare un po' attento, dai. Dì, ma se non hai problemi come lei ha avuto te. Eh sì, vabbè. Tepe gli hanno caldo ospede, tepe gli hanno fracchi e pelle. Ho capito, ho capito. Eh, è meglio questo, tepevi vedere. La vecchia, quando è vecchia si conosce un camminato. La panza si ripete e il culo gli fa popò. Buonasera. Arrivederci a tutti. Secondo me da giovane eravate tutte e tre delle belle donne e ve le tiravate tutte e tre. Veramente siamo belle pure adesso. Però un po' con l'età, un po' si è persa quella bellezza, quella cosa. No, no, che non si pureva. Non pensate che da giovane dovete darla un po' di più? No, la devo pure adesso. Fa piacere. A chi voglio io però. Fa piacere. A chi voglio io però. Eh, certamente, certamente. Lei che è un anzianotto simpatico, ti dico una cosa. Invece di spendere tutti i soldi per una vecchia batante da quattro soldi, no? Perché non si iscrive al canale di Neschio? Lo dica, mi iscrivo al canale di Neschio. Che è Neschio? Che d'è? Neschio? Che d'è? Un personaggio famosissimo. Non che... Non ti scrivese? Che c'è che scrive, ormai... Niente? Quindi preferite spendere... Non capisco, faccio un po' di più. Quindi non spendere se neanche a fare la batante di soldi? Niente proprio, niente poco. Ragazzi, tenete a mente che questo è solo un esperimento sociale. Quindi non dovete imitarci, perché gli anziani vanno rispettati. Certo, certo, certo. Bene, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale di Neschio. Eh, a 150 like uscirà il nuovo video per il show per un giorno. Hai detto bene, Nick. A questo punto vi lasciamo un solito abbraccio, l'abbraccio di Neschio. L'abbraccio di Nick in rosso. L'abbraccio di Neschio